Discriminazione nei confronti di un maestro di danza omosessuale si è verificata in una scuola di Passignano in Umbria. L'uomo è stato costretto a rinunciare al suo progetto formativo dopo che un gruppo di genitori ha scritto alla preside della scuola, sostenendo che l'uomo è inidoneo e non ha i requisiti necessari per insegnare. L'ex maestro si è detto disgustato che esistano genitori con una mentalità retrograda ed impediscano ai figli di fare un progetto formativo come la danza.